Target, Pellet, ottima l'imboccata verso Mané, Mané, Howard la tocca con i piedi, la mette in calcio d'angolo. Galloway si propone sulla corsia di competenza a Luracone, dentro l'aera prende posizione Cleverley, dall'altra parte anche Lukaku, Konevole, Lukaku! Everton in vantaggio con la ripartenza, magnifica, dà applausi sulla destra, Kone per Lukaku, 1-0. Affronta Target, lo lascia sul posto, Lukaku punta l'area di rigore, Lukaku cerca Kone, ma trova Barclay, Steckleburg, poi Cleverley la manda fuori. Barclay, punta la difesa, Lukaku! Ancora una volta, Romelu Lukaku, bucata centralmente la difesa dei Saints, fanno paura là davanti. Barclay per Lukaku, il 20 per il 10, 2-0. Suarez, Mané, altra versione verso Pellet che ha tagliato su primo paolo, eccolo Pellet! Con la girata al volo di sinistro, Howard in due tempi. Suarez, altro cross interessante, sempre Giacchielka prima di Pellet. Wanyama per Mané, Mané va in porta! Howard ci mette i guantoni e la mette in calcio d'angolo. Coleman, eccolo Lukaku, tocco di ritorno, dentro per Coleman, liberissimo Barclay, lo ha visto Coleman, Barclay rientra sul destro! Ross Barclay, 3-0 per l'Everton, azione incredibilmente bella, sempre Ross Barclay, secondo gol in campionato. Estasi per i tifosi dell'Everton. Finisce adesso, a Sammeris vince 3-0 l'Everton sul Southampton. Con vittoria firmata Roberto Martinez.